E' martedì 5 luglio, buongiorno e bentrovati con l'informazione di Telemolise e questa mattina in regia Gianfrancesco Iacaruso. In apertura torniamo a parlare della Villa al Mare del Presidente Frattura perché ci sono delle novità. Spunta a sorpresa una recinzione che ingabbia l'appartamento della signora Iole Varanese e ne impedisce l'accesso al mare. Il manufatto di cui signora il committente e l'esecutore getta ulteriori ombre su una vicenda oggetto delle indagini della magistratura. A finire nella lente della procura di Larino sono stati il Presidente della Regione Frattura e l'imprenditore Gianluigi Torsi. Ascoltiamo il servizio. Torna ad attualità la Villa al Mare del Presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura. Un caso finito anche nelle cronache nazionali. La novità questa volta è una recinzione, ordinata e costruita da mani al momento ignote. Un reticolato che ha praticamente ingabbiato come fosse un pollaio l'appartamento di proprietà della signora Iole Varanese, impedendone il legittimo accesso al mare. Va ricordato che mani altrettanto ignote devastarono mesi addietro lo stesso appartamento facendo scempio di oggetti, suppellettili, infissi e arredi. Sulla vicenda della Villa è in corso un'indagine della procura di Larino, che vede indagati l'imprenditore Gianluigi Torsi e il Presidente della Regione Frattura per reati che, a vario titolo, vanno dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni alla diffamazione, dall'invasione di terreni ed edifici alla violenza privata. Sempre la magistratura di Larino si pronunciò circa un anno fa per ristabilire il diritto d'accesso dei legittimi proprietari alla propria pertinenza. Da allora ad oggi non è successo assolutamente nulla. Non solo la signora Varanese, messa in mezzo ad un ping pong di carte bollate, non è entrata in possesso delle chiavi di accesso al cancello, così come stabilito dal giudice, ma addirittura, oltre alla recinzione, adesso è spuntato un secondo e angusto cancelletto idoneo al solo transito delle persone. Le chiavi non sono state mai ritirate perché il nostro avvocato è andato in tribunale per ritirare queste chiavi, ma gli è stato detto no, io non ho le chiavi. Allora le chiavi le ha l'amministratore, no, l'amministratore io le ho consegnate a un altro. Insomma, hanno fatto, non si è riusciti a sapere chi aveva queste chiavi e al momento attuale non si ha ancora. Sono venuta a conoscenza del fatto che il cancello principale è stato messo da parte. Al suo posto, giusto a fianco, è stato messo un cancelletto piccolo. Ora l'accesso al mare non c'è e loro comunque non hanno nemmeno l'autorizzazione di accedere al mare. Bisogna pagare delle tasse dei maniali che mia sorella ha puntualmente pagato da quando è stata costruita la villa. Il provvedimento che loro hanno messo in atto per, non lo so, per fare questo cancelletto, per mettere questa... Non è altro che un mezzo di voler impedire a chi non è il proprietario principale della villa di poter usufruire del passaggio verso la spiaggia. Il caso tuttavia non finisce qui. Oltre agli otto vani di cui risulta comproprietario Frattura, ne spuntano altri tre che non fanno parte della compravendita a suo tempo stipulata e che sarebbero di proprietà di Flora Varanese, sorella di Iole. Parrebbe che questi locali siano stati occupati, si presume abusivamente, da ignoti inquilini. Questi tre vani sono miei, non fanno parte della parte che è stata venduta, diciamo così. Sono tre vani che non risultano accatastati, però sui quali io ho sempre pagato le tasse perché li ho denunziati ogni anno quando ho fatto la denunzia di reddito, da più di vent'anni insomma. E mi risulta da un po' di tempo, perché io poi non sono più andata a Termole perché mi faceva male il cuore andare a Termole, da un po' di tempo mi risulta che sono vani che qualcuno ha occupato abusivamente. La questione è destinata a tenere banco ancora per tempo, almeno fino a quando non ci saranno notizie dalla procura di Larino. La proroga dell'indagine in corso è scaduta lo scorso 15 aprile e non è dato di sapere cosa sia successo nel frattempo, se si è in corso un'ulteriore proroga oppure se il giudice abbia chiuso in un segno o in un altro le indagini. L'unica cosa certa, come in tutti i gialli ambientati in una villa, è la presenza dei fantasmi. Devono essere stati proprio questi, infatti, a devastare l'appartamento e adesso a recintarlo come fosse un rifugio per galline. Sconcertato il commento della signora Varanese. Io non lo so dove ha trovato il coraggio questa persona di contrastare in un modo così deciso e così poco, ma insomma, contrastare una decisione del giudice. Ma dove siamo arrivati? E' una cosa che, insomma, in Italia non credo che si sia verificata parecchie volte. Rientrerà entro qualche giorno a Montenero di Bisaccia, Lorena Magagnato, la giovane stilista che vive e lavora nel settore tessile a Dacca. Scampata per un puro caso alla strage terroristica nel locale dove sono state uccise le sue amiche. Una casualità l'ha tenuta lontana da quella cena. Ce ne parla in questo servizio Manuela Iorio. Attentato in Bangladesh scampato per una ragazza di Montenero di Bisaccia, Lorena Magagnato, che lavora e vive a Dacca dove venerdì sera un commando di estremisti legati all'Isis ha torturato e ucciso 20 persone, tra cui 9 italiani. Tutti stavano cenando in un ristorante della parte diplomatica di Dacca, quella ritenuta più sicura. E a uno di questi tavoli poteva esserci anche Lorena se un impegno di lavoro non l'avesse trattenuta. La giovane molisana lavora come stilista per la C&A, un'azienda tedesca. Sette degli italiani uccisi li conosceva bene. Se non avesse dovuto lavorare anche lei sarebbe stata a cena con loro. Anche lei sarebbe morta perché come i suoi amici non conosceva i versi del Corano. Erano la mia famiglia, è orribile quello che hanno fatto, ha raccontato disperata al telefono alla sorella Paola che vive a Montenero. Lorena è sconvolta ed è comprensibile. Sette amici con cui condivideva lavoro, tempo libero, passioni e legame con l'Italia non ci sono più. All'improvviso tutti insieme, uccisi da un odio religioso che nel periodo del Ramadan vuole attaccare di più e impressionare di più. Su Facebook Lorena, come foto del suo profilo, ha messo uno scatto che lei ritrae a cena in un ristorante con un gruppo di amici in un momento felice. Sorridono tutti, tra di loro al tavolo si riconoscono almeno quattro delle vittime della strage e l'olei Artisan Bakery. Una cena spensierata, volti sorridenti, per sempre racchiusi in questa foto. Bene, tutto per l'informazione, passiamo adesso alla rassegna stampa. Apriamo con il giornale del molise.it il pezzo di apertura firma di Manuela Iorio, stilista di Montenero di Bisaccia, scampa all'attentato di Dacca. Non ero a quella cena perché dovevo lavorare. Vediamo le notizie in evidenza. Giubileo degli amministratori a Castelpetroso, i politici molisani varcano in Corteola, Porta Santa, Isernia, Borghi della lettura, premiati vincitori del concorso letterario. Isernia, ubriaco, minaccia i passanti e danneggia un'auto fermato e denunciato dalla polizia. Rocca Mandolfi, il comune, attiva il servizio di telesoccorso. Migranti a Campobasso, il tavolo di coordinamento per gestire l'emergenza. Dopo la richiesta di risarcimento a testa interviene il direttore del Bene Comune. Si parla della vicenda che ha riguardato questo mensile e il dottor Testa Larino. Via ai lavori per la nuova scuola materna San Leonardo, cerimonia per la posa della prima pietra. Controlli dei carabinieri in provincia di Isernia. Sei persone denunciate, recuperata un'auto rubata. Cerce Maggiore, i solenni festeggiamenti della Madonna, della Libera. Ed era il giornale del Molise. Passiamo adesso a primo piano Molise. In apertura sempre la vicenda della giovane di Montenero. Giovane stilista molisana scampata alla strage di Dacca. Lorena Magagnato è di Montenero di Bisaccia, ma vive il lavoro e lavora nella capitale bengalese, nel locale dove venerdì sera si è consumata la carneficina. C'erano i suoi amici uccisi dal commando giadista. Vediamo in taglio alto primo piano Molise da Venafro. Avvelenato al Santissimo Rosario, eseguita l'autopsia vicina alla svolta nelle indagini. La politica in movimento Aldo Patriciello e Laura Comi lanciano Siamo Italiani. L'evento il 15 luglio. Torniamo a centropagina. Si parla dello zuccherificio. Zuccherificio verso il fallimento. L'azienda non porta le carte in tribunale. Sfuma il concordato per la SRL. Campobasso, migranti, la Tendopoli sarà smantellata. La cittadinanza attiva chiama in causa il comune. Da Capracotta che è cozzalone sul tetto degli Appennini. Viva l'Italia e il Molise, dice l'attore. Campobasso, aspiranti attori e registi, a lezione da Sergio Rubini. Notizie dall'Abruzzo. Vasto muore a 34 anni in un incidente in Corso Mazzini. La procura apre un'inchiesta. Le notizie sportive. Campobasso. Minadeo traccia la linea. Solo acquisti funzionali. Conferma in panca l'ammissione di mister Di Meo. Entro domani. Firmo ad Agnone. Calcio a 5. La fuzza al CB. Getta la spugna. A storri. Non ci iscriveremo. E da primo piano Molise. Passiamo alla prima pagina del quotidiano del Molise. Zuccherificio rischio fallimento. Questo è il titolo di apertura. Addio al concordato. Il collegio del Tribunale di Larino chiude la procedura della SRL Termoli Venitelli al lavoro per salvaguardare i livelli occupazionali, ma preoccupa l'inottemperanza del management. Andiamo in taglio alto. Catalogo con le offerte formative per garanzia giovani. Approvato l'avviso pubblico. Centri per l'impiego. Micone. Bacchetta. La provincia. Carenza anestesisti da agosto. Solo urgenze. Si parla del Santimoteo di Termoli. Torniamo a centropagina. Agnone. Ospedale il 16 agosto. La sfilata dei tassisti. Dai Sernia minaccia i passanti. E danneggia un'auto in sosta. Attentato a DACA stilista molisana scampa alla strage per un puro caso. Sport serie di lupi. Il DS Minadeo sarà allestita una squadra con grandi motivazioni. Eccellenza contestabile. Vasto Girardi sarei felice di restare un altro anno. E dal quotidiano del Molise passiamo alla prima pagina della Gazzetta del Molise. Si parla di sanità in apertura. Cattolica nel rullo delle polemiche. Questo è il titolo della Gazzetta del Molise. Mentre la sanità ha necessità di serenità. Proseguono gli scontri a distanza. Ma ai cittadini pazienti. Chi pensa? Si chiede la Gazzetta del Molise. L'Oscar del giorno va a Laura Venitelli. Mentre il tapiro a Franco Spina. Vediamo i titoli di futuro Molise. Per l'attualità azione legale nei confronti di Italo Testa. La fondazione Giovanni Paolo II dice non ci interessano le polemiche ma bisogna mettere un freno alle azioni diffamatorie e assolutamente fuorvianti. La realtà che vengono fuori da più parti. Per la politica firma del patto per il Sud. Che fine ha fatto Renzi? Si è dimenticato del Molise? Si chiede futuro Molise. In taglio alto vediamo Petraroia che dice il governo Renzi non ha aiutato il Molise. Come confermano anche le recenti impugnative della legge finanziaria 2016. la mancata firma del patto per il Sud e l'atteggiamento ondivago sulla sanità. E dopo la stampa locale passiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera ha una doppia apertura. Questa mattina si parla della inchiesta scattata ieri a Roma. I politici nella rete delle tangenti indagato un deputato del nuovo centrodestra. in una intercettazione parla di Alfano e l'assunzione del fratello. Gli appalti truccati all'Inps, poste e ministeri. 24 arresti coinvolto anche un ex sottosegretario. In taglio alto si parla di banche. I giorni dell'assedio alle banche italiane. La caduta dei titoli in borsa. Il Monte dei Paschi di Siena perde il 13,99 per 100. Torniamo a centropagina con una fotonotizia dove si vede una bar con un feretro. Beretta, mio genero, viveva per sua figlia. Parla l'industriale dell'alimentare. Di spalla, Renzi sfida nel PD. Se volete che lasci, vincete il congresso. E dal Corriere della Sera passiamo alla prima pagina di Repubblica. Tangenti ai ministeri, una rete criminale ai vertici dello Stato. Ecco le carte. Lavoro alle poste per il fratello di Alfano. Indagato un deputato del nuovo centrodestra ed ex sottosegretario. 24 arresti. Poi si vede la fotonotizia di questo ragazzo americano. Uno studente ucciso. Il mistero dello studente USA ucciso e gettato nel Tevere. Vediamo a centropagina poi si parla della vicenda interna al PD. Renzi, ultima sfida alla minoranza PD. Volete che lasci, vincete il congresso. Di spalla un articolo interessante per la sezione Cultura. La rivincita di Rocco e Antonia. Porci con le ali. Senza scandalo. Il libro che 40 anni fa sfidò la censura. E da Repubblica andiamo alla prima della stampa. Che apre sulla vicenda banche. Crollano i titoli delle banche. Ecco il piano per salvare MPS. Il governo prepara un aumento di capitale fino a 3 miliardi. Il premier critica Draghi sulla mancata riforma del credito. Referendum e partito. Duro scontro in direzione tra Renzi e la minoranza. Di spalla d'acca fermato il prof dei kamikaze. Erano suoi allievi. A centropagina la foto dello studente morto a Roma. A Roma per studiare. Morte con giallo. E' stato buttato nel Tevere. Americano. 19 anni. Era arrivato da pochi giorni. E dalla stampa andiamo alla prima pagina dell'avvenire. Ecco gli schiavisti. Questo è il titolo di apertura del quotidiano della CEI. Duro colpo ai trafficanti di uomini. 38 in carcere. Ucciso chi non paga. L'ombra del traffico d'organi. Nel centro di Roma. Una base del gruppo. Decisive le rivelazioni. Del primo pentito. Nell'organizzazione attivi etiopi, eritrei e un italiano. A centropagina la fotonotizia. Dolore e dubbi a d'acca. Oggi il ritorno delle salme. Renzi si parla di politica. Se vince il no cade il Parlamento. Dice il capo del governo. Andiamo a vedere i due quotidiani della capitale. Il tempo. Eccola Parentopoli. A 5 stelle tutti gli intrecci dei grillini. Mogli, mariti, figli e fidanzati in corsa per un ruolo o un incarico. E aspettando la giunta Raggi scoppia il caso De Luca. La sindaca bambolina imbambolata. Vediamo in taglio alto. Tangenti a Roma. 24 arresti e guai per il nuovo centrodestra. Indagato Marotta. E nelle carte spunta Boeri. A centropagina vediamo Vittorio Sgarbi. Provocazione o impresa impossibile del critico. Vado all'Uvr di Parigi a riprenderla. E nostra forza Sgarbi riporta a casa la Gioconda. Dice il tempo. Il messaggero. L'altro quotidiano della capitale. Apre sulla inchiesta. Tangenti nei ministeri. 24 arresti. Roma nella rete. Altri 24 indagati per corruzione e riciclaggio. Fra cui il deputato Marotta del nuovo centrodestra. E' scritto anche un ex sottosegretario. Legami con altissime cariche tra i favori. Citato Alfano. A centropagina. Studente USA. Ucciso e gettato nel Tevere. Di spalla le banche cadono. Trattativa Italia-Unione Europea sugli aiuti di Stato. Passiamo al fatto quotidiano. Che ha una doppia apertura. La nuova cricca. Beccato anche l'uomo di Alfano. La retata, corruzione e riciclaggio. Legami con altissime cariche istituzionali. Si parla dell'inchiesta romana. A centropagina. E invece si parla delle vicende interne al PD. Referendum. Renzi avverte. Se perdo andate a casa. Anche voi. Minacce alla direzione PD. Italicum. Senza firme. Questo scrive il fatto quotidiano. Andiamo a Libero. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Caro migrante, se non paghi, ti uccido e vendo gli organi. Questo è il titolo di apertura. Gli scafisti fanno affari sulla pelle dei disperati. E i nostri professionisti della solidarietà danno una mano. Continuando a fare spot per l'invasione. E appelli all'accoglienza. Questo è il titolo che fa questa mattina. Libero. Andiamo al mattino di Napoli. Renzi chiama De Magistris. Si sblocca quindi il rapporto tra il premier e il sindaco di Napoli. Pronto a incontrarti subito se tu dialoghi su Bagnoli con il commissario. La telefonata del disgelo tra il capo del governo e il sindaco di Napoli nel giorno della direzione PD. E dal mattino di Napoli passiamo al secolo d'Italia. Questo è il titolo di apertura. Tutti a casa. Con l'immagine di Matteo Renzi alla direzione nazionale del partito. Le notizie in primo piano. Blitz della Guardia di Finanza a Roma. Nei guai. Deputato del nuovo centrodestra. Uccidono chi non paga migranti. Un pentito confessa. Farage. Missione compiuta. E lascia la guida dello UKIP. Si parla in questo caso di Brexit. L'informazione economica con il sole 24 ore. Si parla di banche in apertura. Monte dei Paschi di Siena. Il governo prepara lo scudo. Il Monte dei Paschi crolla in borsa a meno 14%. Piazza Affari chiude a meno 1,7%. E dall'informazione economica passiamo a quella sportiva con la Gazzetta dello Sport. Si parla delle due squadre milanesi e dei due rispettivi allenatori. M-Factor. Questo è il titolo di apertura. Mancini. Inter è l'ora di vincere. Montella. Dai Milan. Sono pronto a rifare l'aeroplano. Bene, con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il telegiornale di Telemolise. A voi tutti l'augurio di una serena giornata. Grazie a tutti.